Qui vi presentiamo le 5 migliori pieghevole rapporto qualità-prezzo. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Momabikes bicicletta pieghevole ruota 20 Shimano. Alluminio. Ha un layout urbano e innovativo, con struttura in alluminio leggero e anche cerchi. Un tocco sofisticato e dato dalle afferri in similpelle e anche dalla sella. Creata con manubrio pieghevole e pedali, la bici comprende ruote da 20, cambio Shimano TZ50 e anche cambio Shimano RevoShift RS35. Ultra leggero, è completo di parafanghi e anche portapacchi da viaggio. Una volta ripiegato, le sue misure sono 77 x 64 x 35 cm. Passando al numero 4. MBM Angela 20 Bicicletta Bicicletta Pieghevole Folding Bike. La bici pieghevole 20 Zolto Lose RH è superba per l'uso sia per attività sportive che ricreative. Davvero bello e molto facile da usare, aprire, piegare e pop per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. MBM Safari 20 Bicicletta Pieghevole Folding Bike Nero 6S. La Folding Bike Nero 6S è una mini bike pieghevole, molto facile da consegnare e con ruote leggermente più piccole rispetto ad altre bici pieghevole. Ideale per chi ha bisogno di fare brevi viaggi, in particolare in città. Almostat è top of our list at number 2. KS Kikling, bicicletta pieghevole 20 Zolto Lose RH 32 cm. La bici pieghevole 20 Zolto Lose RH è adatta a tutti i tipi di strade. Può essere utilizzato in città tuttavia in aggiunta in campagna e anche in collina. Facile da mettere in auto, a casa tua, in un armadio oltre che semplice da aprire e chiudere. Il sedile, oltre a tutti i vari altri componenti, è davvero semplice da aprire e anche chiudere. E infine il numero 1 della nostra lista. Stovabic e bicicletta terreno pieghevole. La stovabic è una bicicletta pieghevole con struttura di 66 cm, corpo in lega con molla, catena Z33, il freno in acciaio V-brache, considerando 18,3 kg. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.